Buongiorno, benvenuti nella mia casa. La prima cosa che faccio è andarmi a pesare. 900 grammi sopra. Ovviamente in Italia non è facile mangiare così sano. Pizzerie, panifici, ovunque. È davvero difficile. Però l'unico modo per fare di peso è con l'insalata. Sto dedicando gli ultimi 6-7 mesi per preparare l'olimpiata meglio. Il mia di massima me la devo otto al giorno. Tutti i giorni tranne il sabato e la domenica faccio solo un allenamento. I 90 kg sono il mio primo step. Faccio circa 6 ripetizioni. Poi stavo a 120, 140, 160. Fino all'allenamento del giorno. Oltre a fare l'atleta sto studiando. È il primo minimo università qui a Roma. È un po' stressato, lo ammetto. Però è una cosa davvero mi piace. Tutte le volte le persone mi dicono come fai ad essere così positivo? Come fai ad andare avanti?